Nella notte tra domenica e lunedì Regini Garden, la nota azienda florovivaistica di Bellocchi, ha subito un furto nel suo punto vendita Fiore e piante Regini di Montemaggiore. Come spesso accade, molti danni e bottino scarso, appena 56 euro di contanti dal fondo cassa e gli spiccioli di una macchinetta del caffè a disposizione dei clienti, ma una finestra mandata in pezzi, da dove con ogni probabilità si sono introdotti malviventi nel locale. Ciò che ha reso però questo furto, che anche gli inquirenti hanno bollato come ad opera di ladruncoli in cerca di soldi, decisamente grave per l'azienda, è stato il furto, sempre ad opera degli stessi malviventi, del mezzo dell'azienda parcheggiato fuori un Fiat Doblò, con le insegne dell'azienda che i ladri hanno preso dopo ersessi impossessati delle chiavi per allontanarsi dal luogo del misfatto. Non è la prima volta che questo accade alla Regini Garden, sempre a seguito di un furto, si era vista già portare via il mezzo dei ladri per poi ritrovarlo dopo diverso tempo, ma molto lontano dall'attività. Il rischio è che, oltre al danno, anche la beffa di non poter svolgere adeguatamente l'attività commerciale, data la mancanza del mezzo per consegno o quant'altro, con un conseguente danno economico e notevoli disagi. Ma questa volta però è andata decisamente bene. Dopo l'annuncio del furto del mezzo nel Tg Occhio alla Notizia di ieri sera ed il relativo appello a chiunque lo notasse di contattare prontamente l'azienda, la speranza è diventata realtà. Il Fiat Doblò dell'azienda stamattina era già stato riconsegnato dalla polizia rocare di Calcinelli. Allora, ringraziamo questa persona per il senso civico che ha dimostrato e grazie a Fanno TV che ci ha dato possibilità di riavere il mezzo subito perché poi comunque a noi serve per lavoro, quindi è fondamentale.